Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Video molto breve, ma mi pare giusto tenervi informati su Elden Ring, dato che è un titolo che sta a cuore un po' a tutti. La notizia, 5 delle classi giocabili su Elden Ring sono state velatamente annunciate in un tweet dell'account ufficiale di Elden Ring. Avremo la possibilità di provarle durante la closed beta, ovviamente, che andrà dal 12 al 14 novembre. E adesso veniamo alle classi. Le classi sono, come vedete in questa prima schermata, il Guerriero, il Cavaliere Incantato e il Profeta. Poi ci sono anche il Campione e il Lupo Sanguinario. Non sappiamo se queste saranno la totalità di classi disponibili al lancio o se ce ne saranno altre. Fatta eccezione per il Guerriero, le altre classi sono, almeno nel nome, nuove rispetto ai vecchi titoli From Software. A me personalmente stuzzicano molto la curiosità sia il Profeta che il Lupo Sanguinario. Ma veramente, veramente tanto, specialmente il Profeta che è un po' strano. A voi invece quale classe ispira di più? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie mille e alla prossima. Ve l'avevo detto, il video sarebbe stato breve e così è.